Ben ritrovati ragazzi dal vostro Pentitus, oggi vediamo brevemente come scoprire una chicca particolare come me ad esempio che amia l'ambiente dark anche su Google Chrome. Google Chrome sappiamo che è uno dei principali, forse il più diffuso browser in ambito Android, oltre che desktop, e quindi come poter abilitare su Google Chrome la modalità notturna. Bene, ora vi faccio vedere un esempio, andiamo su Chrome, chiedo scusa, andiamo sull'indirizzo principale di Google, andiamo anche su Maps, ecco vedete che si presenterà scuro. Proviamo ad aprire proprio una, eccola qui, e si vede appunto la pagina completamente oscurata. L'unica cosa che non sono riuscito a modificare, come vedete sopra, è la stringa in alto di ricerca, rimane comunque bianca. Molto semplice per poter fare questo, basta che voi selezionate dalla barra di ricerca, Chrome, non version, ma uso questo semplicemente per ridigitarlo, e scriviamo flags, eccolo qui, selezionate flags, e in flags cercate dark, ed ecco che vedrete Android Web Contents Dark Mode. Voi fate enabled, non disabilitate, ma abilitatela. Dopo aver fatto questo, il browser si riavvierà e troverete in automatico proprio la modalità dark. Anziché trovarla dalle impostazioni, la troverete direttamente già applicata. Quindi abbiamo detto, basta che voi selezionate Chrome 2.0 slash slash flags, non version, mi raccomando, flags. Bene ragazzi, spero di esservi stato utile con questa piccola chicca, da vostro open to use, ci vediamo ad un altro video tutorial. Ciao ragazzi!